Grazie a tutti. Grazie. 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 1.200. È beccato. 5.000 euro. 6 euro. 6 euro. Grazie. 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 Questo lo sì. Ci è la pasta. Questo qua è un tanto special. Ok, se lo ci la faccio the best. Ok. Voi. Anche questo ho vinto. Èario? Xoia! No! Ha lasciato il trovo sec Kan Harry. Fa già corto di un dado. È geonceацina. Grazie. 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 Grazie a voi. Ha vinto! Oh che f***! Oggi è una palla! Guarda! Ogni volta porti con la stessa mano! Tra l'altro! Zitto! Oh, zitto! Te mandi su tre, fatta bene. Anche la seconda mi ha fatto quella. La prima scena. Anche la seconda mi ha fatto Maximo. Sempre Maximo, 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 Maximo. Cio di cappa. Ha roscurato, ci credo che mi ha piccato. Ci mancherebbe solo. Madonna! Non c'è mano che non mi ha fatto. Max, Denfo, Fusion e l'altro scuolo migliorante. Quattro carte che te le mani su tre. No, no, no. Ma no, Max, la prima. Se sono giocati di Mendes, quello lo vedeva. Se non ci riconassero, ho fatto dopo. No, non ci farei da anche. Se non gioca prima non ci farei da anche. No, non ci farei da anche. Magari pianta di nuovo. Per cui non ci farei da anche. E non ci farei più. Non puoi fornire con la squadra.